Anche se la progettazione è cominciata ufficialmente nel 2006, la SL65 AMG Black Series è risultato di più di 40 anni di dedizione e ricerca di alte prestazioni. Un uomo, un motore. Ogni V12 AMG Biturbo da 6 litri è costruito a mano da un singolo ingegnere prima di essere inserito nella scocca. Per ottimizzare il rapporto potenza-peso, l'efficienza del motore è stata incrementata fino a raggiungere i 661 CV, mentre il peso dell'auto è stato ridotto di 250 kg. Ad eccezione delle portiere e dei relativi specchietti retrovisori, ogni singolo componente della carrozzeria è stato creato appositamente per la AMG Black Series. La conformazione più ampia e lo spoiler posteriore estensibile in fibra di carbonio, il primo in una Mercedes AMG, migliorano la tenuta e il bilanciamento e conferiscono all'auto un'estetica aggressiva e minacciosa.